C'è solo una domanda che echeggia per le strade della città tra il Corso Vittorio Emanuele e i quartieri periferici, tra i tifosi e i semplici appassionati. La domanda è quando si sbloccherà il mercato dell'Avelino, quando potrà essere tesserato Bertolo e gli altri calciatori nel mirino di Musa e Martone. La risposta è che al massimo, entro venerdì, dovrebbe arrivare la famosa fumata bianca. La coppia Polcino-Chiacchio infatti sta terminando la consegna dei documenti sul doppio fronte procura federale Covisoc. In realtà alla prima sono stati già forniti la maggior parte degli atti richiesti, ovvero quelli di onorabilità bancaria e solvibilità. Alla Covisoc invece mancava il famoso rapporto ricavi-indebitamento che la precedente gestione avrebbe dovuto fornire entro lo scorso 30 settembre. Rapporto che appunto ha portato al blocco del mercato. La diligenza bianco-verde appare comunque molto serena ma anche molto infastidita per tutto questo caos che si è creato. Non a caso le parole del presidente Luigi Izzo, impegnato in modo quotidiano nella operazione Simpatia, sono state chiarissime. A me quello che mi interessa è lavorare per raggiungere i risultati. Io se non sono messo nelle condizioni di lavorare, siccome poi non ho dietrologio e interessi vari, perdo entusiasmo. Allora se vedo che qualcosa si può costruire mi trovate sempre qua. L'entusiasmo non manca, certamente preferirei salire e scendere dallo stadio anziché dai tribunali, procure e altre cose. Intanto domani Ziorino Capuano, sempre davanti alla Procura federale, dovrà difendersi dopo il deferimento beccato per le dichiarazioni post-Avelino Ternana di Coppa Italia contro la guardalinea Veronica Vettorel. Rischia la squalifica fino a tre giornate e una ammenda. Il 23 toccherà invece a Claudio Mauriello discutere il deferimento per una serie di documenti non inviati agli organi competenti nel passaggio da SSD a SRL del club Bianco Verde per la continuità aziendale. Il rischio è quello di un'ammenda.